Tra poco, let's movie con Vampiro per caso, Sossuper! Preparati, Sossuper è arrivato un Halloween da urlo! Non perdere la nuova serie Monster High e le sue terrificanti sorprese! Conta quante volte passa il mostrocchio di Super durante l'episodio alle 19! Vai sul sito supertv.it flash vinci Monster High e indica il numero corretto! Potresti vincere uno dei super premi Monster High da prima! Ma sospetti? Gioca con Super! Sai tenere un segreto da brivido! Prendi la chiave e apri l'armadietto per svelare le sorprese! Più di 19 accessori per uno stile da urlo! Scopri i segreti da brivido di Monster High! Se vuoi un salmone così buono, devi andare fiiiino al tuo frigo! Ma oui! Spudoratamente buono! Sky Viper, forse drone! Per volare, basta un gesto! Guidalo con le tue mani! Prova anche il Vector Jet! Giochi preziosi! Dai, vieni con noi! Ninja Shouts! Turtles parlanti! Alza il braccio! Più trattieni! E più lungo è il suono! Frasi e grigia di battaglia! Ninja Shouts! Parlanti! Ciao, io sono Nova e lui è Zack! Dai, vieni con noi! Prima tappa, centro di soccorso per cani! C'è Pickles! Poi, al ristorante, Lien salta con lo skate e balla con Paisley! Mentre io e Zack giochiamo ai videogiochi! Che giornata super! Scopri le novità Lego Friends e vieni a conoscere i tuoi nuovi amici su lego.it slash kids! Prossima fermata? Dovunque tu voglia! Scopri il nuovo treno passeggeri espresso di Lego City! Scegli tu la prossima destinazione! Con la boutique moda di Barbie, scegli la fantasia! Crea il tuo stile! E poi dritti in cassa come in un vero negozio! E con Barbie Super Chioma! Capelli lunghissimi e look alla moda! Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri! Influenza e raffreddore possono rallentare anche le piccole azioni quotidiane. Nurofen Influenza e raffreddore combina l'azione decongestionante e anti-infiammatoria per un rapido sollievo dai sintomi influenzali. Nurofen, esperto di influenza e raffreddore. Con Gira Pagina di Sapientino decidi tu come divertirti. Scegli il tuo libro e inizia un'avventura sempre diversa. Scopriamo i mezzi di trasporto. E con i quiz basta un tocco. Cosa va nello spazio? Lo so. Posso giocare poi ora? Sapientino, curiosi si cresce. Gioca con Barbie. Scivolo in piscina. In un pigiama party. Quante avventure sul camper dei sogni. Ti scopri anche Barbie grande amica. È alta più di 70 centimetri. Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri. Credo ancora negli eroi. Io riconosco un desertore quando ne vedo uno. Dove vai? Ad uccidere Thanos. Avengers! Mi hai portato via tutto. E ora ti restituisco il favore. Ha puntato ogni pianeta che chiamiamo casa. Fagliela pagare! Scommetti. The Marbles. Dall'8 novembre solo al cinema. Che divertimento con Pictionary R2. Il gioco interattivo nel quale anche tu fai parte del disegno. Non è importante disegnare bene, ma disegnare insieme. Pictionary R2. Sfide all'ultimo disegno. Disegna con la bacchetta e vivi la magia di Harry Potter con Pictionary R Harry Potter. Benvenuti nella settimana più terrificante dell'anno. non vi allermate, gente. Tutto questo è stupendo. Incontri mostruosi. Io so cosa sei in realtà. Chiudi gli occhi. Diamoliche risate. Aspettetela di ridere. Fa tutto parte dello show. Con Let's Movie Halloween. Questa sera alle 20 non perdere Vampiro per Caso. So super. E ora, Let's Movie con Vampiro per Caso. So super. So super. E ora, Let's Movie con Vampiro per Caso. So super. So super. So super. So super. So super. So super.